Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo episodio della logica Ricordo di iscrivervi al canale E questa è una buona visione Ok, direi di iniziare Oggi, come obiettivo, direi di andare da in letto Per vedere se c'è qualcosa di utile Quindi direi di iniziare Ok Visto che abbiamo messo delle cose qui Cambiamo qua la posizione Ecco Aggiungiamo Perfetto Qui dove faremo la casa Andiamo a vedere se qua Vado Ancora Lo sedi di andare qua Ma no ok un attimo uno spungere qua sotto Questa è il vetro, proprio abbastanza utile, questo vetro lo serve proprio per la carta. Ok, tagliamo, qui non c'è ossiglione, ma qui non c'è ossiglione, ma qui non c'è tutta questa, vabbè. Così potremmo fare il vetro. Io avanti. Ok, siamo fuori. Vieni, sta diventando notte. Ok. Ok. Deve che dormire. Ok. Vi che dormire. Non ce ne prendiamo. qua l'ha perso Dopo qui nella grotta Flore Molto bello Ok, qui non mettiamo tutta la roba Mettiamo un po' di roba qua dentro Perfetto 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 bene andrà questa perfetto quindi ora prima buttiamo un po' di coppia e poi saliamo poi continueremo un'altra volta perfetto ah ma ce l'abbiamo un po' di soul sand vabbè fa niente così bene ce l'abbiamo quindi direi di farlo qua ovviamente ci andremo nel prossimo episodio perfetto ecco l'abbiamo poi non abbiamo uno per tutto bella fatta ok vi proviamo perfetto ora facciamo continuare un po' di peso e per questa volta è tutto quindi nel prossimo episodio andremo nel letter e vedete per questa volta direi di concludere qui spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo da pasqua allora è vero qui Grazie a tutti. Grazie a tutti.